Un saluto sincero alle amiche e agli amici iscritti e un caloroso benvenuto a coloro che invece passano da queste parti per la prima volta. Io sono Giuseppe e questo è il mio canale, Emozioni su Rotaia. E allora bentrovati, ci troviamo nella stazione di Santa Severa in provincia di Roma, lungo la linea terrenica, più precisamente nel tratto, che nell'immagine trovate ben evidenziato in rosso, che va dall'importante porto di Civitavecchia fino al nodo ferroviario della capitale. La nota curiosa è che Santa Severa rappresenta una semplice frazione del comune di Santa Marinella, che in tal modo, pur avendo meno di 20.000 abitanti, può così vantare ben due stazioni nel proprio territorio. L'omonima Santa Marinella è appunto Santa Severa dove ora ci troviamo. Una situazione analoga a quella di Antrodogo, storica cittadina della provincia di Rieti, situata ai piedi del Monteggiano, lungo la splendida linea ferroviaria Terni-Rieti, l'Aquila-Sulmona, dove troviamo due stazioni, quella di Antrodogo-Borgo-Velino e quella di Antrodogo-Centro. Qualora siete a conoscenza di situazioni analoche, non esitate ovviamente a citarle nei commenti. Ma torniamo a Santa Severa, ebbene questa stazione, che trova una ragione d'essere durante il periodo estivo nella sua vicinanza al mare, è estremamente interessante per noi appassionati di ferrovie. Il motivo è piuttosto semplice, i suoi binari si estendono complessivamente per circa 1600 metri, tanto per fare un utile raffronto, la successiva stazione di Radispoli-Cerveteri ha una lunghezza complessiva di circa un chilometro. Così, questa corposa differenza le consente di ospitare lunghi treni merci provenienti da Nord, al fine di garantire le necessarie precedenze. Certo, bisogna avere un pizzico di fortuna, spesso infatti i merci transitano senza sostare, ma la dea bendata qualche giorno fa mi ha riso. Non solo il treno sostava, ma addirittura la sua trazione c'era, come state per vedere, una splendida locomotiva prototipo. Ma ora lasciamo spazio alle immagini e ai suoni della nostra ferrovia. La nostra ferrovia è la 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 nostra ferrovia. E così, amici, siamo giunti alla fine del video. Sperando che sia stato di vostro gradimento, vi invito ad inserire un bel like e iscrivervi al canale. Stanno infatti per arrivare delle interessanti novità. Per adesso un saluto sincero a tutti e, parafrasando il midi Obi-Wan Kenobi, che le rotaie siano con noi. A presto!